C'è qualcosa che non funziona nei conti come vengono fatti, nella determinazione dei parametri secondo me bisogna rivederla perché oggettivamente noi siamo in una fase nella quale stiamo migliorando i numeri eppure c'è il rischio che si entri in zona rossa. Io credo che la zona rossa sia sinceramente una punizione che la Lombardia non si merita perché ha fatto tanti sacrifici in questo periodo, i cittadini si sono comportati tutti molto bene e onestamente la zona rossa è estremamente penalizzante. Queste sono le critiche che ho sostenuto adesso parlando con speranza e ho detto di riguardare perché...